Oltre 2.000 pernottamenti offerti nell'arco di 4 mesi, 83 i clochard che hanno così potuto trovare un posto caldo dove trascorrere la notte. Il dormitorio di Piazza San Domenico, ormai dallo scorso aprile, ha chiuso le sue porte e adesso la Caritas Diocesana di Arezzo, che ha gestito il servizio assieme al contributo fondamentale di quasi un centinaio di volontari, traccia un bilancio. Sono state così oltre 120 le notti di apertura per un totale di più di 2.400 pernottamenti. Sono stati infatti 24 i posti letto offerti nei 4 mesi di apertura, ai quali gli ospiti hanno avuto accesso dopo aver richiesto un pass, una misura che ha garantito così a tutti i richiedenti la certezza di un posto letto, oltre che ad un kit per doccia e igiene personale. Ogni 15 giorni, inoltre, è stato garantito anche un servizio medico. Per quanto riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico, una battuglia di agenti della polizia locale ha sempre fatto visita al dormitorio nei giorni di apertura. In base alle difficoltà rappresentate dagli utenti del dormitorio, la Caritas si è fatta carico di avviare contatti con gli assistenti sociali del CERD, del comune di Arezzo e degli altri comuni della provincia. 50 gli accessi in tutto con il pass, per la maggior parte si tratta di uomini aretini, in gran parte dei casi soli, senza famiglia. 33, invece, senza tetto, che hanno usufruito del servizio in maniera sporadica. Un aspetto comune degli ospiti, fanno sapere della diocesi, è quello legato alle fragilità dovute al consumo di alcol e sostanze stupefacenti. Un altro elemento che è stato riscontrato con frequenza tra gli ospiti sono i piccoli problemi di giustizia pregressi. Nel corso dei colloqui effettuati è emerso inoltre, come molti di loro abbiano alle spalle, rapporti familiari difficili o addirittura inesistenti. Un'assenza che ha creato in molti casi di loro un esasperato senso di solitudine, isolamento e abbandono, che si è riversato nella scelta di allontanarsi da casa. A questo va aggiunto la mancanza di un'attività lavorativa stabile. Insomma, un quadro delicato quanto è difficile.